Mi dispiace che non sia venuta Ellie Schlein a confrontarsi con noi sulle questioni del Jobs Act, perché quelli che ci dicono avete invitato i ministri quando li invitiamo non vengono, però ci fanno la lezione di superiorità morale per un motivo, perché il Jobs Act non lo vogliono discutere perché o non l'hanno letto o non l'hanno capito e nell'uno e nell'altro caso non sono in grado di resistere, di reagire a un confronto e quando lo fanno come ha fatto in questi anni la CGL che ci ha mostrificato, poi si scopre che il Jobs Act ha fatto assumere e la CGL ha fatto licenziare. Questa è la differenza di fondo. Siccome questo dibattito andrà avanti nei prossimi mesi, sappiate che Italia Viva non mollerà mai il proprio desiderio profondo di continuare a dialogare con tutti, ma partendo dalle idee, non partendo dagli slogan a casaccio che servono per prendere tre like su Twitter e lo faremo sul Jobs Act e lo faremo su tutte le questioni.